Ok ciao a tutti parto subito una nuova missione devo arrivare assolutamente al livello 30 così posso entrare in zona nera va bene che potrei entrare anche adesso però voglio finirmi gli sblocchi voglio vedere se ho una toppa speravo di prenderla col drone mi mancano poche uccisioni ma il drone non funziona tanto bene perché dice che dovrebbe difendermi no vede via i proiettili come sta ingresso in area sicura andiamo a vedere in mappa cosa c'è eccola qui radio faro shade radio faro 5 e poi i punti 24.435 i trussons hanno fatto deragliare un treno rifornimenti c'era una cassa shade e stando al segnale che in via devono averla trovata ok adesso scorre bene per il momento sta andando guardate è una perfezione incredibile qui è proprio problemi di server non è problemi di schede video facsimili non ho una visuale quello era l'ultimo incredibile ce l'abbiamo fatta buona è viti e bulloni prepararsi a combattere perfetto abbiamo degli ostili sul fianco cassa shade rilevata i trussons hanno fatto deragliare un treno da quelle parti e poi l'hanno ripulito c'era una cassa di tecnologia shade a bordo l'hanno trovata loro l'hanno trovata l'hanno trovata l'hanno trovata l'hanno trovata l'hanno trovata e Grazie a tutti. 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 Oh. 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 La cassa è vicina, agente. Oh. 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 ok il giro è finito prendo la cassa shade ho finito meno male che i trussons non hanno aperto la cassa le serature devono essere piuttosto robuste comunque riportala alla base appena poi agente missione 5 terminata cassa shade riprendo la prossima missione dalla casa bianca ciao a tutti gioca il game chiude